Nel 1950 Lissana, il suo primo film, ha chiamato a fare l'attore in un film, Actu Manditi, suo esordio, mio naturalmente, e io quando ero lì, vedevo le luci, la macchina l'ha presa, allora la debri enorme, il carrello, io ero con la bocca aperta e un macchinista mi fa, a montata, ti piace il cinema? Ah, è il cinema in crisi, sta in campana, ero al 1950, li abbiamo visti. Michaela Ramazzotti, assolutamente, Michaela Ramazzotti affezionata a questo festival, tante volte sul palco premiata, a questo punto, questa volta per la tenerezza come migliore attrice. Un film che parla d'amore, cosa ti ha lasciato? Questo film mi ha lasciato tante cose, tante cose, la cosa più bella è il mio regista, l'amore che il mio regista mi ha dato, quanto mi ha voluto bene, quanto mi ha saputa guardare, quanta attenzione c'è stata nei miei confronti. Abbiamo parlato della tenerezza, ma questi ragazzi che sono di là, dalla telecamera, sono degli studenti, lei è stato anche professore del centro sperimentale di cinematografia, ma la cosa più importante è un grande maestro, il suo consiglio a questi ragazzi? Io dico che ho due professioni parallele, perché fare il regista non è la cosa che in qualche modo ti permetta di insegnare la regia se non si è in qualche modo portati anche all'insegnamento. Io credo che il dialogo che ho instaurato ormai da anni con gli allievi del centro sperimentale è un dialogo che in qualche modo risponde anche alle domande che io faccio a me stesso. Cioè bisogna sempre essere al posto dell'allievo per capire le esigenze dell'allievo, non mettersi sulla cattedra e pontificare, ma cercare sempre quali sono i bisogni comuni. Il bello è quando il docente, il cosiddetto docente, si mette nei panni dell'altro. Questo è fondamentale. Bene, la vostra scuola, dicevo, i ragazzi devono capire che l'unica cosa alla quale devono stare attenti è la memoria, capite? Perché qui i ragazzi studiano cinema, vogliono fare ballerini, vogliono fare grandi fratelli, grandi sì, grandi nonne, ma in realtà dovrebbero studiare chi era Comencini, Pietro Germi, questa gente qua, per capire questo paese che piano piano sta andando via. L'assessore Gigi Cavalli nonché vice sindaco, prossimo Monnessaro da Monte Rotondo. Ci conoscono molto bene. No, no, veramente mi ha bucciato tre volte il quinto. Vabbè, allora se è un'intervista seria, se dobbiamo stare a sentire che lui è stato bocciato tre volte, io non lo stavo bocciato mai, perché ci sono proprio vannato a scuola. No, non è vero. Grazie a tutti e viva l'Istituto Santa Maria. E come no, certo. L'Istituto Santa Maria che sta giù alla discesa, no? Ci ho fatto un paio di ripetizioni in italiano. Sì, ricordo, infatti l'ho stato bocciato. No, scherzo, 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 l'ho stato sempre promosso. E' una bella storia quella tra il nostro comune, la nostra città e il Festival delle Cerasi. Ormai sono cinque anni che ci teniamo compagnia. E' una bella occasione per il Festival che ha trovato una città ideale, secondo me e anche secondo gli organizzatori. E' una bella occasione per la nostra città. Un Festival importante, porta a Monte Rotondo tanta cultura, confronto con chi il cinema lo fa e poi culmina in questa bellissima serata. Il Festival ha creato una bella relazione anche per questo. Non è una cosa che avviene e poi torna via da dove è venuto. Ma si è radicato nella città. E ha trovato nella città quelle passioni e quelle competenze, come quelle dei ragazzi dell'Istituto Santa Maria, che coniugano quindi i loro studi. Ha un inizio e un cimento con i primi esempi, i primi tentativi di professione. Quindi questo è quello che interessa più a noi, che è una cosa che rimanga, formi, contribuisca a formare giovani professionisti, giovani nuovi professionisti, che magari un giorno saranno tra i premiati, tra i registi, tra gli aiuti registi, tra gli operatori, e perché no tra gli attori. Ci auguriamo questo e il Festival serve anche a questo. Bravi ragazzi, bravi ragazzi.